Ciao amici, sono Mauro di Orti di Mauro, vi faccio questa inquadratura per farvi vedere che sono carico di legname. Ma cosa gli sarà mai venuto in mente ancora questo qua? Non è che adesso la forza di colpare legname ha intenzione di aprire una falegnameria, no eh? No dai, scherzavo. Allora, questo video è velocissimo per farvi vedere che, per spiegarvi fondamentalmente una cosa semplicissima. I lavori sono andati avanti, però per via della sera che era stata appunto fatta a puntate, siamo arrivati nel frattempo, io sto entrando e mi avvio per farvi vedere quello che vi sto per dire. E quindi dicevamo, per via della sera che è stata fatta a puntate, abbiamo portato avanti molto le date facendo comunque due pubblicazioni la settimana, il mercoledì e la domenica. Allora, alle ore 20, e perché alle ore 20? Sempre per lo stesso motivo, perché è una sana alternativa al TG delle 20 o comunque ai programmi delle 20 o in genere della TV. Vi sto per inquadrare i cassoncini rialzati dell'ortopensile al quale io ho già fatto le coperture dei mini tunnel, appunto. Eccoli qua, eccolo qui, questo qui praticamente adesso ha la versione con la rete antigrandine per evitare appunto l'intrusioni di animali o delle galline, di altri predatori della mia verdura, chiamiamoli così. Questa è la versione ancora da ultimare perché non ho ancora la rete antigrandine per tutti, perché mi deve arrivare, il negoziante qua vicino me l'ha ordinata. E altro, altro niente, a parte questo elicottero che sta passando sulla testa e il pastore appunto che è là a far incavolare il mio vicino di orto. Adesso avranno parole di sicuro perché è appena guastato anche uno dei miei meli e quindi dovrebbero piantarlo lì di andare in giro a far danni. Eccoci qua, altra anteprima velocissima della serra, è in uno stato di lavoro abbastanza avanzato e vi faccio vedere questa cosa prima che arrivi il video delle semine. Et voilà, guardate che bella, cresce lentamente, molto lentamente per la stagione che è, chiaramente fa ancora freddino, sta andando avanti, le cose funzionano piuttosto bene. Anche perché non siamo all'interno di una serra a giocatolo e non abbiamo tempo da perdere per giocare con i droni qua agli orti di Mauro, perdonatemi ma ogni tanto qualche minimo sfogo me lo devo prendere anch'io. Questo è il casino dei miei pollai e giriamo intorno alla serra per chiudere la nostra conversazione velocissima che andrò a inserire nella playlist dei video diretti, quindi senza, probabilmente senza sigla, senza altro. Buona la prima, con questa inquadratura mi fermo, vi saluto, vi ringrazio per la visione del video, vi raccomando, un mi piace, un mi piace se vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, mettete pure anche la campanellina, cliccate la campanellina per essere ragionati sui nuovi inserimenti e perché no iscrivetevi al canale, fate i commenti, fate tutto quello che potete fare per aiutare il mio canale a crescere. Ciao amici, buona serata a tutti.